India, la nuova falsa navicella spaziale. Un saluto amici ed amiche. Ricordo che a disposizione c'è sempre il libro Il risveglio in bianco e nero. Ha colori solo nella versione ebook. Per chi non se lo può permettere c'è la versione omaggio nella home di www.tinelli.eu. Chi cerca trova. Inerente all'argomento che segue potete divertirvi con la copiosa playlist NASA, astro non auti ma attori. Date un'occhiata a questo video. Anche l'India continua la sua corsa nello spazio. Hanno fatto una riproduzione riutilizzando quella dello Space Shuttle della NASA degli anni 80. Sono in corsa per lo spazio con un programma di lavoro, un marchigegno per il furto di denaro, per uno spazio finto dove si guadagnano fantas miliardi di soldi come per la medicina. È veramente divertente. Vogliono andare nello spazio con questo. È molto divertente. Mi auguro riusciate a comprendere che si tratta di un modellino perché se non è così dovete smettere di guardare i video. Vi stanno ingannando. Osservate i sostegni delle ruote. Non possono sopportare un peso del genere in atterraggio. Si spezzerebbero all'istante. È un giocattolo. Dovete sapere che è necessario fingere che esista lo spazio perché così si prendono un sacco di soldi dai cittadini ingenui. E questo è il biglietto da visita. Il vettore. Lo Chevron. Il simbolo che è in tutti i loghi delle agenzie spaziali sono universali perché tutte queste agenzie sono in combutta fra loro. Anche l'India è entrata in corsa col falsificare lo spazio perché così ruba denaro al suo popolo. Attraverso il fornito indice alfabetico cercate il video simbologia nei distintivi spaziali che risale al 28 gennaio 2018 e comprenderete che è pura propaganda. Ce l'hanno sempre detto ma non comprendiamo. Inondano i credenti con continue informazioni false e a furia di ripeterle li foraggiano e li tengono addormentati. Buone cose a tutti e tutte. Dino.